Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati sul nostro canale Oggi vi volevo mostrare questo bellissimo tablet della Huawei Che io sto usando veramente tanto Si chiama Huawei MediaPad T5 E' veramente un tablet buono ragazzi Per chi vuole le informazioni tecniche lo accontento subito Sarà la prima cosa che faremo Allora andiamo nelle impostazioni E andiamo su impostazioni tablet Cioè sistema praticamente, ci dice le informazioni del tablet Si è bannato, non scherzavo E allora, riproviamo Sistema E allora, qui ci dice informazioni sul tablet E possiamo vedere il nome del dispositivo Cioè Huawei MediaPad T5 E poi si può cambiare se uno vuole Poi modello Che il numero di build, versione MUI, versione di Android CPU, RAM, memoria tablet E schermo Patch di sicurezza Android Versione Kernel Stato della batteria, della rete Informazioni così Vedete il livello batteria 83% Indirizzo IP Indirizzo MAC Indirizzo Bluetooth Numero di serie, eccetera E poi possiamo vedere le informazioni legali Le informazioni di autenticazione Poi ci sono i servizi Google L'accessibilità Intelligente L'assistenza L'account La sicurezza La privacy Le impostazioni di memoria Audio, display Batteria Insomma Un po' tutte quelle che ci sono In ogni dispositivo Huawei Per cui Queste erano informazioni tecniche Più o meno Spero che abbiate capito E Dopodiché Vi dico subito Velocità di questo tablet Allora Io Questo tablet Lo uso soprattutto Per Airline Commander RFS Che sono due simulatori di volo E A me piacciono molto Ier E come vedete Anche come sfondo Mi sono a 380 E quindi uso questi due simulatori E Per quanto riguarda La velocità E Devo dire che In quanto a lag Più o meno Non Quasi pari a zero Diciamo Ci sono dei lag Forse nel Nel replay Quando Quando io voglio vedere Il replay di un mio volo Schiaccio replay Ci sono dei lag A volte perché Può essere Che il gioco sia troppo pesante Oppure A volte perché La galleria è piena Perché la memoria di questo tablet Non so come mai Ma è poca Ad esempio Se riempio la galleria Con 5 video Già Se voglio installare un'altra app Mi dice Di Eliminarne qualcuna Anche se non sono installate Ad esempio 5 Poi ci sono quelle preinstallate Che occuperanno un po' di memoria Però comunque La velocità è buona Se non è intrasata la memoria E è molto buona La velocità del tablet Se poi è libero Appena comprato Dovrà essere al top Adesso io da un po' Caccelò Quindi non mi ricordo Come fosse all'inizio Però comunque Devo dire che È molto molto buono Come velocità della CPU Lo schermo Lo schermo è 1920x1200 È ampio E in basso ci sono i soliti tastini virtuali Che ci sono su ogni dispositivo Huawei Tra l'altro c'è anche una schermata Scorrendo Che ci farà accedere Direttamente Alla schermata di Google Ai vari suggerimenti Eccetera Quindi Poi ci aggancia molto bene Alle reti wireless Quasi subito Nella gestione tablet Possiamo Ottimizzarlo Ad esempio adesso Al 76% Se lo ottimizziamo Ad esempio Quando giocate E' molto importante Ottimizzarlo Perché in questo modo Riducete i lag Di molto E Qui ecco Possiamo attivare Ad esempio La scansione virus Lui adesso sta cercando i virus E Al 32% 100% Sicuro Perfetto È Una scansione Fatta con Avast Diciamo Il software Quello dell'Avast E Perché 99% 100% Ottimizzazione Ok 99% Vabbè Gli va a riscrivere 90% Gli metterà 99% Comunque 99% Quasi 100% Diciamo Va benissimo Del tablet Poi Come app Preinstallate Ci sono L'orologio La fotocamera La galleria Il calendario I temi Le impostazioni La gestione tablet E Playstore Mi sembra Esatto Procrazioni di sistema Quindi anche questa Preinstallata I suggerimenti Che Vabbè Si accetta Vi possono Dare I suggerimenti Sul Su come tenere Il vostro dispositivo Per magari Farlo durare Di più Non so Poi qui Ci sono Dunque Playfilm Di sistema Foto Di sistema Hangout Di sistema Google Drive Penso anche Quella di sistema Si Si Comunque Queste qui Sono tutte Di sistema Anche youtube Si Perfetto Quindi ci Sono varie Applicazioni Del sistema Che purtroppo Sono impossibili Da Disinstallare Dico purtroppo Perché ad esempio A me piacerebbe Poter Disinstallare Google Play Film Per installare Qualcoso Di più utile Perché ad esempio Uso Netflix Che Al posto di Play Film Però Anche quello Sono riuscito A installarlo E ce l'ho Potete scegliere Se avere tutte Le applicazioni Nella schermata Home Oppure di avere Una seconda Schermata Con un tasto Per accedere A tutte le applicazioni Molto interessante La funzione Per registrare Lo schermo Direttamente Dal pannello Delle notifiche Si ad esempio Clicco Questo tastino E Chiede Delle autorizzazioni Eccetera E poi dopo Se scorriamo Possiamo scegliere Se registrare L'audio Dal microfono Dal sistema Che io uso sempre Per registrare I miei atterraggi Perché comunque Non mi piace sentire Il rumore Che c'è intorno Quindi questa opzione È molto utile Oppure se Non vogliamo Selezionare Nessun audio Cioè In pratica Vogliamo il video Muto Però Adesso io faccio A nulla Altrimenti Se scegliete Il vostro sistema Lui inizierà A registrare Lo schermo Ecco I video occupano Molta memoria Quindi Vi consiglio Se li fate Di trasferirli Su un computer Che abbia più memoria O comunque Su una fonte Di memoria esterna Diciamo Poi abbiamo La gestione file Qua in alto Che ci fa vedere Quanta memoria Stiamo utilizzando E In questo momento Ci sta dicendo Che ci sono 2,45 gigabyte Da pulire Si esatto Se volete Se volete Cliccare Su polizia Comunque Dopo Nella memoria interna Vedete Sto usando Circa 13,55 gigabyte Su 16 Quindi Me ne rimangono Circa Due e mezzo Penso Di giga Si O qualcosa del genere Comunque C'è capito Che con Poche app installate E comunque Anche se vedete Nella galleria Ho 5 video E 3 foto La memoria Non è tantissima Però a me basta Per quello che devo fare Perché gioco Soprattutto su RFS E Alien Commander Ovviamente Sono disponibili Le funzioni Di trasmissione In bluetooth E in Huawei Share Che è una Funzionalità speciale Dei dispositivi Huawei Che possono Trovare Questo dispositivo In una specie Di sistema Che è un po' Tipo il bluetooth Solamente che Funziona Solo con i dispositivi Huawei Ed è un po' Più avanzato Diciamo Però di fatto Penso Che abbia Le stesse funzioni Del bluetooth Adesso io Non l'ho mai provato Perché non ho altri dispositivi Huawei Però Penso sia Più o meno Come vi ho detto Ah Molto utile Il fatto di poter Attivare Un'app gemella Per le nostre Applicazioni Perché in questo modo Noi riusciamo A portare avanti Diciamo Con due profili diversi Un gioco Ad esempio Se io volessi Iniziare da capo Arline Commander E semplicemente Praticamente Attivo L'app gemella Di Arline Commander E in quel momento Il tablet Cosa fa Sposta Crea un'app Un'altra app Di Arline Commander Che però Non è collegata Con la prima Per cui io posso Avere due applicazioni Con due Account Se vogliamo chiamarli Diversi Anche se di fatto Non c'è un account Per cui posso portare avanti Due livelli diversi Del gioco Oppure Anche non solo Per i giochi Funzioni Anche per le applicazioni Normali Anche se lì Non penso che serva Molto Però comunque Nel display È disponibile La protezione occhi E che Se l'attiviamo Fa diventare Lo schermo più giallo Non so se si vede La variazione Nel video Però È diventato Più giallo Poi qui c'è Si può mettere La temperatura E il colore Vedete Qui è verso il bianco E qui verso il giallo Non so se si vede La variazione Spero di sì E comunque Adesso la disattivo Per farvi vedere meglio E Poi Cos'altro c'è Da farvi vedere Dunque L'audio Vabbè Sono i soliti Le solite impostazioni Huawei Memoria Si può vedere La pulizia Per fare Dei dati di memoria Cache Ad esempio Che non servono Dati residui Da applicazioni Che sono state Disinstallate Dati che insomma Non servono Qui ovviamente Per le connessioni Wi-Fi Per attivare la modalità aereo Dati mobili Che in questo caso Non sono attivati Perché è un tablet E la connessione in VPN Poi la fotocamera È buona Veramente Sì Adesso si dovrebbe vedere Più o meno Sì la fotocamera È molto buona Perché Una volta L'ho utilizzata Per filmare Dei fuochi D'artificio Sono venuti Veramente bene Quindi ragazzi In conclusione Di questo video Io vi dico Che È un tablet Veramente buono Ha molte potenzialità Soprattutto La batteria Dura Veramente Tantissimo Io Lo stanco Lo sfinisco Anche guardando A volte Dei film Su Netflix Ma Sono sbalordito Dalla batteria Perché Dura molto Dura veramente Molto Ad esempio Adesso è al 79% L'ultima volta Che l'ho caricata È stato Circa Penso 3-4 giorni fa E comunque Ho giocato Adesso non molto Però ho giocato Un po' Da New Commander Ho fatto qualche volo In RFS Quindi Non ho guardato Filmi su Netflix Però comunque Esce solo del 20% In tutto questo Ed è Da 3-4 giorni Che non lo carico E ancora Nella Nelle impostazioni Possiamo vedere Che ancora Ci sono circa Un giorno e due ore Restanti In side by Poi se attivo La modalità Di sparmio energetico Diventano Due giorni Due ore restanti Solo che in questo caso Non posso controllare Il tempo in cui Il display resta acceso Perché sono 30 secondi 15 se ce l'avevate Anche prima E poi Non posso Controllare C'è la luminosità Sì la posso controllare Però comunque È ridotta Circa del 10% Se non sbaglio Poi c'è Per chi volesse La risoluzione intelligente Che riduce La risoluzione Dello schermo Per avere Un maggiore risparmio Della batteria E poi vi dice Le app che stanno Consumando in background E Ottimizzare la batteria L'uso della batteria Un po' di informazioni Per Allungare la vita Della batteria O allungare la carica Anche della batteria Perché se esiste In un posto Non potete caricarla Potete usare queste opzioni Per poter risparmiare Al massimo La carica della batteria Quindi Riassumendo Tablet Ottimo Ah poi non vi ho fatto vedere La schermata di blocco Ma è questa qui Si può attivare la fotocamera E Come vedete Oppure si può Tirare su Per sbloccare E Perché in questo caso Ho scelto Lo sblocco Col trascinamento Se tiro Su perpendicolarmente Oddio Una volta Veniva su Ah no Ok Devo tirare su Da di sotto Così E vengono fuori Vari opzioni Tipo Per l'accesso rapido Alle immagini La calcolatrice Video Musica Per i vari controlli Quindi ragazzi Io vi consiglio Veramente Se volete un tablet Bello Buono Io vi consiglio Di comprare questo Io sono rimasto Molto Stupito In positivo Da questo tablet Soprattutto Dalla sua batteria E E penso che sia Veramente ottimo Anche come rapporto Qualità prezzo Per cui Se avete domande Come al solito Rispondete nei commenti E Io Vi saluto E Spero che questo video Vi sia stato utile Che sia stato utile A qualcuno Che deve acquistare un tablet Se Ho aiutato nella decisione Quindi Se avete altre domande Potete tranquillamente Rivolgermi nei commenti E niente ragazzi Ciao Se vi è piaciuto Ricordate di iscrivervi Al prossimo video